L'ultima fiaccolata della memoria del 6 aprile all'Aquila con 15.000 persone ci fu nel 2019, dopo il Covid e una cerimonia ristretta per tre persone in piazza Duomo. Anche quest'anno la fiaccolata salterà per il secondo anno consecutivo a caso della pandemia in corso. Impossibile pensare ad una fiaccolata in forma ridotta, ma i comitati stanno pensando comunque a qualche gesto simbolico per onorare lo stesso la memoria delle vittime, cosa che comunque è insita nell'intimo di ognuno, ma il ricordo collettivo è comunque fondamentale per una comunità. Antonietta Centofanti del Comitato Familiari Vittime della Casa dello Studente afferma che stanno studiando delle forme alternative. Anche quest'anno, come l'anno scorso, si chiederà di illuminare ad esempio tutti i balconi italiani nella notte tra il 5 e il 6 aprile al ricordo del terremoto dell'Aquila, ma non solo, anche delle vittime del Covid, iniziativa che nello scorso anniversario fu raccolta da moltissime persone, anche da istituzioni non aquilane. Stiamo pensando, ho sentito l'altro giorno anche Vincenzo Vittorini per capire come si può supplire alla mancanza della fiaccolata, vediamo se ci viene qualche idea. Chiederemo anche quest'anno di accendere un lume alla finestra nella notte tra il 5 e il 6 in memoria di tutte le nostre vittime, ma anche delle vittime che continuano ad essere numerosissime per il Covid. Lo stop era fiaccolata per due anni di seguito, forse ci può indicare in futuro una nuova strada per ricordare quanto è accaduto. La nostra idea è quella che l'Aquila in occasione del 5 e 6 aprile, prossimi di quelli che verranno, possa diventare un'occasione di riflessione sui temi della sicurezza a largo spettro, che rappresenta un po' lo stavo dell'arte a livello nazionale, perché la sicurezza si declina in tanti modi, non soltanto le case che crollano perché costruite male, come tragicamente la casa dello studente insomma, e gli altri casi dove sono morti altri ragazzi e non solo, ma è l'inquinamento dei fiumi, il consumo eccessivo di territorio che poi provoca frane, è la terra dei fuochi, è l'Ilva con tutti i suoi morti, è Moncaglieri e Monfalcone con tutti i morti di Amianto. Ci piacerebbe che diventasse il 5 e 6 aprile l'occasione di riflettere tutti insieme, che il paese possa riflettere tutti insieme.